Vendere al telefono ti suona ancora strano nel 2022? Sì, parliamo di un mezzo di comunicazione vecchio, ma che in realtà è più rilevante oggi di quanto non fosse qualche anno fa. Con i venditori che fanno affidamento su email, social per chiudere le vendite, il telefono è diventato una bellissima possibilità di portare avanti e concludere vendite di alta qualità. Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio del podcast Scuola di Vendita. Io sono Mirko Cuneo e oggi ti mostro come vendere al telefono anche se tutti ti dicono che non ne vale più la pena. Oggi si fanno meno chiamate ed è frustrante cercare potenziali clienti al telefono, ma in realtà ci sono strategie anche per questo. Tutti i tuoi concorrenti inviano quasi esclusivamente email, il che significa che i tuoi potenziali clienti sono più disponibili al telefono. Ecco allora vendere al telefono nel mercato di oggi. Numero 1. Crea uno script per tutte le tue chiamate di vendita. Non c'è niente di più frustrante per un potenziale cliente che avere un venditore che balbetta e non sa cosa dire durante una chiamata di vendita, senza un obiettivo chiaro e girando attorno al focus principale della nostra call. Uno dei migliori suggerimenti per la vendita telefonica consiste nell'utilizzare uno script che spieghi esattamente come aprire la chiamata, cosa chiedere e come chiudere ovviamente la nostra telefonata. Quando stai parlando con un buon potenziale cliente al telefono, non servono giri di parole e prafrasi ovviamente inutili. Scrivi lo script delle tue telefonate, prepara tutto, anche le risposte alle obiezioni e non lasciare mai niente al caso. Numero 2. Corri dei rischi. Per qualche motivo noi venditori viviamo con la paura di telefonare. Come se ricevere un no da un cliente sia in grado di influenzarci per il resto della nostra carriera. Ovviamente è una paura infondata e se hai scelto questo lavoro dovresti saperlo bene. Se sbagli una chiamata, qual è il problema? Nessuno, non importa. Il tuo potenziale cliente non si ricorderà della telefonata fra qualche giorno. Quindi sii disposto a correre dei rischi con le tue chiamate. E se il tuo potenziale cliente rimane sul vago, prendi il controllo della telefonata e cerca di raggiungere il tuo obiettivo senza esagerare. Numero 3. Non usare solo il telefono. Ora, potrebbe suonare strano, ma il telefono è uno strumento spettacolare per i venditori e funziona ancora meglio quando viene usato insieme a tutti gli altri canali di comunicazione. Quando chiami un potenziale cliente e non lo trovi, lascia un messaggio vocale, invia un'email, invia una newsletter, quindi chiama di nuovo. Infatti, progettando l'intera strategia per effettuare le tue chiamate, risulterà molto più facile poi chiudere una vendita. Ti aiuterà ad arrivare al punto in cui il tuo potenziale cliente saprà chi sei nel momento in cui riuscirai a parlare con lui al telefono. È così che riesci a raggiungere le persone al telefono e a parlare con loro. Numero 4. Punta in alto. Se hai intenzione di fare centinaia o addirittura migliaia di chiamate al mese investendo innumerevoli ore nell'attività, quando parli con qualcuno al telefono, vuoi parlare con quelli che ovviamente prendono davvero delle decisioni? Vuoi parlare con qualche tirapiedi che dovrà presentarti al suo capo? È ora di puntare in alto. Chiunque tu stia chiamando ora è probabilmente di livello inferiore rispetto a chi dovresti davvero raggiungere durante la tua telefonata. Se stai chiamando i manager, inizia a chiamare i direttori. Se hai chiamato i direttori, inizia a chiamare i loro CEO. Più in alto chiami, più massimizzi il tuo ritorno su quelle chiamate. Chiama in alto e mettiti in gioco. Numero 5. Chiama presto. Chiama tardi e chiama spesso. Ora che abbiamo stabilito che chiamerai ai piani alti, la domanda è come fare a raggiungere quella persona. La soluzione è semplice e comunque voglio fare un disclaimer qui. Il 99% di chi ascolta questo episodio ignorerà questo suggerimento, ma l'1% che lo implementa farà davvero un sacco di vendite. I profili di alto livello lavorano dalle 7 alle 19 almeno. In effetti molti di loro lavorano anche di più, dalle 6 alle 21. I dati ci mostrano che quasi tutti gli amministratori delegati lavorano qualche ora anche il sabato. Ma quando lavorano i loro segretari? Dalle 9 alle 5. Forse dalle 8 e 30 alle 17 e 30 alle 18. Se i loro capi sono dei maniaci del lavoro. Il principio di fondo è che quando chiami i tuoi potenziali clienti di alto livello, alla mattina presto, alla sera tardi o anche il sabato, ci sono. E soprattutto le loro segretarie sono a casa e non lavorano. Quindi ecco per te 5 consigli per vendere in modo efficace al telefono in questo 2022. Bene, anche per oggi è tutto. Nei prossimi episodi di Scuola di Vendita riceverai altre informazioni per aiutarti a crescere e ad aumentare il fatturato della tua attività. Ma ahimè, anche per oggi è tutto. Se i consigli ti sono stati utili lascia un like, come sempre a questo episodio del podcast, e condividilo ovviamente con tutti i tuoi amici. Io ti aspetto la settimana prossima per un nuovo episodio di Scuola di Vendita. Ci sentiamo presto!